Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come ogni giovedì siamo ritornati con il nostro appuntamento di Serie B di Futsal Siamo tornati con il solito appuntamento di calcio a 5, vediamo Fabio come si comporterà, oggi c'è il Bologna, partita molto interessante, avversario di livello Capiremo dunque come si comporteranno anche con le assenze che oggi sono molto importanti Sia Nicola Scalaia che Roberto Conti, out, vedremo quali saranno le risposte della squadra di Baricella e come se la caverà nonostante tutto Anche Fabio ha avuto un piccolo affaticamento in settimana, motivo per cui si è allenato di meno rispetto al solito, ha fatto un allenamento su tre Quindi vedremo se giocherà, come giocherà il Bals in generale e vedremo un po' quali saranno le dinamiche interne Noi adesso andiamo in macchina e risponderemo alle vostre domande e ci apprestiamo all'entrare nella partita Bologna Bals Nuovo content, Fabio Di Mauro che guida Oggi vi porteremo la guida di Fabio, analizzeremo come guiderà, andiamo ad analizzare tutti i suoi aspetti Eccoci dunque in macchina per rispondere come sempre alle vostre domande a fianco a me però non c'è Fabio che sta guidando in questo momento ma c'è Antimo Non lo vediamo in buone condizioni, si è fatto male a una spalla, dunque vuoi parlarci un po' di cosa è successo? Oddio sì, non so quante persone possa interessare della mia spalla però ho avuto un problema, mi è uscita tre volte nel giro di pochi mesi Ho dovuto fare un intervento di artroscopia e quindi niente, adesso devo aspettare un pochettino per rimettermi in sesto E quindi oggi la cabina di regia te la affido a te Fred, te la senti? Oggi qualora non riprendessi qualcosa sappiate che la colpa non è mia, bensì di Francesco Di Mauro Io invece mi difendo dicendo che non è colpa mia ma è colpa di chi mi ha messo in questo ruolo Penso che comunque se Antimo mi avesse scaricato il pallone in quella partita di calcetto non mi sarebbe mai fatto male alla spalla Aridaglia, madonna la mena un sacco questa cosa, dovevi scaricare la palla all'indietro Lui si è fatto male in un impatto con un avversario perché non aveva scaricato il pallone e da lì in poi non si è più ripreso Che causa del suo mal è anche a se stesso Ragazzi fake news non è niente vero quello che ha detto Fred, io mi sono fatto male perché Fabio mi ha picchiato Violenza domestica, lo vedete così tranquillo, timido, umile ma in realtà lui è una persona violenta che alza le mani Quindi dite no alle persone così e basta Sì Fabio si sfoga con la violenza sui fratelli Andiamo a rispondere alle vostre domande come sempre Andiamo con la prima domanda che poi in realtà è un commento da parte di Valerio Mamma mia quanto parla quello con i capelli lunghi A tratti odioso deve sempre mettere l'ultima voce, come ti difendi? Ma no io non mi difendo Fred, anzi do ragione a Valerio, c'è ragione sono estremamente odioso Tant'è che ti invito al prossimo video qua con noi così faremo fare tutti i commenti a te e poco altro No scherzo comunque ci sta Valerio, non si può piacere a tutti Siamo tutti con te Valerio Allora sì no per quanto mi riguarda ho giocato a calcio una decina di anni Ho giocato anch'io nell'Etrusca Poi sono andato a Portuenza, Argentana Infine ho giocato al Consandolo Squadra in cui sono arrivato a ridosso della prima squadra Dopo per motivi lavorativi fondamentalmente non sono più riuscito a portare avanti questo impegno in pianta stabile E mi sono dato al calcio a 5 in maniera amatoriale con amici, cose di questo genere qui Però magari potremmo riprendere, Freco, qualora il popolo di Youtube ce lo chiedesse Abbiamo visto che a tanta gente è piaciuto il content 3 contro 3 magari potremmo portare qualcosa di più serio Sì io più o meno le mie tappe calcistiche vi ho già detto nell'ultimo video Ho giocato comunque per 12 anni anch'io da quando avevo 5 anni Ho giocato i primi due chiaramente fuori un po' per divertirmi Poi ho iniziato a giocare seriamente in porta E l'ho fatto più o meno fine 17 nella stessa squadra in cui ho giocato Fabio più o meno Quindi sempre Alponsina, Argentana, Portuenza e così via E adesso sì sono fermo quindi prossimo anno valuto se rigiocare Non so neanche dove, non so come Però lo valuterò in generale comunque gioco per divertirmi Mi piace fare così e penso che sia la cosa giusta onestamente Ringraziamo anche Dofogliolina che ha lasciato un commento bellissimo nell'ultimo 3 contro 3 Francesco è fortissimo, antimo la rivelazione Ti ringraziamo Dofogliolina e dai allora cercheremo di farvi vedere più spesso quanto siamo forti o scarsi Allora andiamo dentro con la prima domanda per Fabio Domanda rivolta alla Mattia Persico che chiede Fabio come l'hanno preso i tuoi compagni che fai lo youtuber? Sei un grande Eh l'hanno presa benissimo dai Alla fine in tutte le squadre in cui sono stato l'hanno sempre presa bene È una cosa che generalmente fa piacere In questa squadra particolarmente ha fatto molto piacere a tutti L'hanno presa molto bene No comunque sono tutti molto felici di comparire su Youtube Si divertono anche con i vostri commenti Quindi dai si divertono, fa piacere a tutti Andiamo con la domanda di Francesco Mollo Domanda per Fabio Come mai sei partito dalla Serie B anche se è la tua prima stagione? Ho avuto la possibilità di iniziare dalla Serie B Mi aveva scritto il direttore sportivo già quest'estate Poi avevo deciso di continuare con il calcio a 11 Già avevo il dubbio perché mi piaceva molto il calcio a 5 Niente quindi mi ha scritto il direttore sportivo del balza Poi li ho riscritto io questo inverno Tra l'altro visto che negli avversari di oggi c'è Anzaloni Ti ricordi chi è? L'ho affrontato la prima volta quando ancora giocava a calcio nella spalla mi sembra E poi anche diverse volte intorno all'estivi Già da piccoli nel calcio a 11 l'ho affrontato diverse volte E anche il tuo primo approccio nel calcio a 5 è stato con lui no? Si è vero anche a Limolese Anche quando ho fatto il primo a Limolese calcio a 5 c'era anche lui Allora andiamo dentro con la terza nonché ultima domanda di Silent Di Aie Che ci chiede Ciao Fabio Quali sono le principali differenze rispetto al calcio a 11 a livello di comunicazione con i compagni? Si dicevo che c'è un tipo di comunicazione molto più diretta Essendo che siamo tutti vicini Il mister è a un metro dal campo Quindi lo sentiamo benissimo E non siamo tutti sparpagliati per un campo Quindi sì questo C'è una comunicazione un po' più diretta Più un senso forse di unione Dunque eccoci arrivati a Castenaso Qui che ci sarà la partita E qui che ci sarà Bologna-Balsa Dunque scendiamo e apprestiamoci a prepararci alla partita Eccoci dunque con Fabio Siamo nelle pre-partite di Bologna-Balsa Oggi è partita molto difficile Ci sono 24 punti di distacco tra le due squadre Insomma come siete preparati a questa partita E come stai anche te? Beh diciamo che Molte abbiamo avuto un po' di problemi È una partita in che abbiamo un po' di difficoltà Abbiamo avuto un po' di mancanze Un po' anche di difficoltà negli allenamenti Molti ne hanno saltati Comunque vediamo come andrà Ce la metteremo comunque tutta Per sostituire chi manca E far notare il meno possibile le loro assenze Dunque te come stai? Siamo che comunque non hai disputato tutti gli allenamenti Che erano a disposizione Cos'hai? Ah sì ho avuto un leggero affaticamento Comunque adesso è tutto a posto Sto bene Spero che non incida il fatto di aver fatto solo un allenamento E niente comunque do al massimo Adesso sto bene Oltre anche a te non al 100% Mancano Calaia e Conti Entrambi squalificati e diffidati Tra l'altro c'è anche Pozzi Che con un eventuale cartellino andrebbe in diffida Quindi chiaramente le assenze del balza Possono essere pesanti oggi Dunque come pensi che possono incidere due assenze così pesanti Come quelle di Calaia e Conti? Sì sicuramente sono assenze pesanti Come ho detto prima Cercheremo di fare tutto Per far notare il meno possibile le loro assenze Pensi che oggi il mister ti darà la fascia di capitano? Il mister è il loro Che il santo Ciao mister Fascia di capitano a Fabio oggi Allora eccoci Fabio anche con le mie domande Oggi arriva il Bologna La seconda della classe è una partita comunque difficilissima Te però vieni anche da un periodo positivo I quattro gol che hai segnato in under E che hai visto YouTube pochi giorni fa Possono essere un incentivo in più a fare meglio oggi O comunque più consapevolezza Sì sicuramente è stata una partita che può dare Dal punto di vista della consapevolezza Dei gol aiuta Però comunque è tutto un altro livello Tutta un'altra partita Ed è completamente diversa Quindi è da approcciare in modo diverso Cambia tutto Sicuramente devi ripartire dall'entusiasmo Che ti hanno dato i quattro gol Sì certo Quello aiuta sempre Anche a segnare aiuta a fare altri gol E quindi devo cercare di sfruttare Quelli fatti per cercare di fare altri Ok allora noi adesso Lasciamo andare Fabio a cambiare A preparare a questa partita Noi andiamo dentro Mettiamo sull'attrezzatura E vi introduciamo la gara Per ragioni di copyright Eccoci all'esterno Del palazzetto dello sport di Castenaso Palazzetto che quest'oggi Vedrà in scena la ventesima giornata Del campionato di Serie B di Futsal Bologna-Balza Una partita molto difficile per il Balza Sicuramente gli avversari sono favoriti Terzi in classifica Diversi punti di distacco tra le due squadre Vediamo come si comporteranno Date anche le assenze Sicuramente il Balza non parte favorito Balza sicuramente che non parte come favorita Anche perché dagli ultimi incontri Esce un pochettino con le ossa rotte 4-2 Arpinova Poi dopo c'è stato un declino totale Oltre al 6-0 dell'Olimpia Regium È arrivato un 2-2 dal sapore agrodolce Perché oltre al risultato È mancato anche un po' l'approccio alla partita Bologna invece reduce Da quattro risultati utili di fila Il Balza solamente uno Sì Bologna che arriva anche Sicuramente buone condizioni a questa partita Da un 2-2 con l'Olimpia Regium Quindi questo dimostra anche Quanto la squadra di Bologna Sia effettivamente molto forte Tra l'altro Miglior marcatore Jose Revert 23 gol stagionali Grande pericolo Grande laterale Giocato tante stagioni nel Levante Tre stagioni comunque in Spagna E sicuramente si presenta Come uno dei pericoli principali Della partita di oggi Bologna che tra l'altro È stata l'unica formazione Ad essere riuscita a fermare L'Olimpia Regium Tra andata e ritorno Nessun altro ci è riuscito Questo è un altro fattore in più Per cui temere la partita di oggi Tra l'altro la prima vincendo Cosa che non ci è riuscita Nessun'altra squadra In questo campionato Dunque ora adesso Prendiamo posizione in tribuna E apprestiamoci all'assister al match Andiamo Tutto pronto al palazzetto Dello sport di Castenaso A breve assisteremo A quella che sarà La ventesima giornata Del campionato di Serie B di Futsal Il big match Il derby Bologna-Balza E oggi il fascino al match Non manca Una partita delicatissima Fra le squadre bolognesi Vedremo come se la caverà Il balza che deve rialzare la testa Dopo un solo punto trovato Nelle ultime due partite Oggi la trasferta è molto difficile Ma vedremo come se la caverà La squadra di Andrej Vedremo come se la caverà Intanto l'ingresso in campo Delle due squadre Il Bologna reduce da un periodo Positivissimo L'unica squadra Ad essere riuscita a fermare L'Olimpia Regium Reduce da un 2-2 Esterno E ora vedremo come reagirà Anche sulle ali dell'entusiasmo E come si approccerà A quello che oggi È il primo derby Di Fabio Di Mauro In Serie B di Futsal Sì Vedremo anche Fabio Come si comporterà Tra l'altro abbiamo visto La prestazione di lunedì Come Fabio Si era scavata bene Con 4 gol realizzati Con l'Andre 19 E quindi c'è molto interesse Per vedere se riuscirà Quale sarà la reazione del Bals Reduce da un periodo Poco positivo Dopo le grandi uscite Delle ultime giornate Ha perso un po' di linfa Soprattutto a seguito Della sconfitta esterna Per 6-0 Contro l'Olimpia Regium A Reggio Emilia Sì Ha perso un po' di riuscita Il Bals Intanto rivediamo anche La classifica I punti della Pontedera Sono tanti Sono 6 Ma da qualche parte Bisogna partire Per rialzare la testa E la classifica E vediamo se partirà Comunque da oggi Con il Bologna Nonostante poi Il coefficiente di difficoltà Altissimo del match di oggi Oggi due assenze importanti Tra l'altro Nicola Scaraia E Roberto Conti Che non potranno dare Il loro contributo Alla causa Balsa Però questo è un derby Una partita da dentro fuori Sì Sicuramente L'assenza di Calaia e Conti Non sono assenze da poco Vediamo infatti Come si comportereà il Balsa Anche senza due giocatori cardi Come Calaia e Conti E vediamo se magari Fabio riuscirà Ad avere anche più centralità Date le loro assenze E adesso andiamo ad annunciarvi Quelle che saranno Nelle formazioni Che da qui a breve Scenderanno in campo Partiamo dal Bologna Che schiera Paciaroni in porta Davanti a sé Come ultimo Gwendeline Laterale destro Cavina Laterale sinistro Rever Cortez Il capitano E come pivot Radesco Dalla porta opposta Invece per il Balsa Troviamo Di Bitonto In porta Quest'oggi capitano Davanti a sé Come ultimo Pozzi Laterale destro Ferrante Laterale sinistro Fusca E come pivot Fadiga Che batte ora L'inizio di questa Ventesima giornata Del campionato di Serie B Di Fuzzal Fusca Ha spazio davanti a sé Può salire il numero 2 Che va ora da Pozzi Dunque Ferrante Bello lo stop orientato Di Ferrante A superare Cortez Ferrante La parata Con la manona sinistra Bellissima La risposta Di Paciaroni Che si fa trovare Subito pronto Andiamo a rivedere Anche dal replay Insomma bellissimo Lo stop a eludere L'intervento di Rever Cortez E poi Portiere sta andando giù Dalla parte destra In controtempo Con la sinistra Riesce a neutralizzare Il tentativo del set Si molto bravo Ferrante Che appunto Con il controllo orientato È riuscito a portarsi Verso lo specchio Della porta Bravo comunque Anche il portiere Del Bologna Intanto seguiamo Rever Cortez Calcia ma Viene murato da Fusca Riparte ancora Ferrante E ancora Paciaroni Mamma mia Com'è partito Il set del balza Quest'oggi E com'è partito Anche Paciaroni Perché anche questa Non è una parata facile Ancora una volta Tiro potente Da parte di Ferrante È veloce ad andare giù Esulta Come se fosse un gol Parata molto importante Tra l'altro Tiro raso terra Vediamo ora la carica Di Paciaroni e suoi Che li invita a svegliarsi Adesso è entrato Simone Al posto proprio di Ferrante Che ha avuto qualche problemino fisico Adesso vediamo Quale sarà la risposta Del mio entrato Simone A sostituire Un ottimo Ferrante Fino ad ora Adesso fallo Da parte di Radesco E danni di Simone Che finisce giù Vedremo Per quale soluzione Opterà Parte ora Fusca Pallone deviato Forse sempre Dallo stesso Radesco Si rappropria Del pallone Rever Cortez Che innesca Marco Cavina Lo sprint del 17 Che fa fuori Simone Poi va dentro da Guendeline Che gioca il pallone al centro Bravissimo Qui Fadiga Seguiamo ora Fadiga Che va da Ferrante Che verticalizza direttamente Per Eman Maizi E poi Toschi Un fulmine a ciel sereno Quello dell'otto Che però colpisce solamente La parte esterna Della rete Spada che adesso gioca Per Guendeline Da questi Anzaloni Punta Ferrante Anzaloni Sì però adesso Il Bologna Sta creando qualcosina In più È già arrivata Alla seconda conclusione Il giro di pochi minuti Per la squadra bolognese E adesso Chiaramente Il basso Deve stare attento Perché è un po' Una fase calante Adesso Fallo di Eman Maizi Che sbraccia Su Marco Cavina E si prende Il primo giallo Della partita Ammonito ora Il caimano Eman Maizi Che era diffidato Dunque salterà L'importantissimo match Di sabato prossimo Contro la posa Bologna Intanto il gioco Riprende ora Con Mordacci Che va a pescare Pozzi Uno sguardo avanti a sé Da parte del 9 Che cerca la verticale Non positiva Capisce tutto Guendeline Che pensa alla conclusione La prova La palla si perde A lato Un po' come valzo Prima per Anzaloni Insomma il balza È lento Ora nella trama di gioco Capisce tutto Spada Che va da Cavina Mamma mia Di quanto è uscito Questo pallone Adesso Guendeline La verticale per Anzaloni Che si allaccia Con Pozzi E poi va un destro Tenebroso Che però Non va a centrare Dallo specchio della porta Altro squillo Spada Che si va a riprendere il pallone Solo va a riprendere Anche il numero 11 Che ora Torna indietro Lo fa con pazienza Lo fa con la collaborazione Di Guendeline Che va da Paciaroni Che ha 4 secondi Lo sa Esce ora dalla sua metà campo Carica il destro Lo prova Di Bitonto in due tempi Rischia un po' sulla pressione Poi di Anzaloni Non perfetto qui di Bitonto Che però Riesce a recuperare bene la sfera Poi Innesca Fabrizio Simone E fallo Da parte di Guendeline Pronto a partire il 2 Che poi cerca di andare da Ferrante Ma capisce tutto Anzaloni Cerca di ripartire Qui spada Rischia il sesto fallo Ferrante Fallo che non arriva Poi la conclusione di Pozzi Ampiamente alato Sì comunque ci sta A provare la conclusione Baza Ci prova Quando può attirare Verso la porta Di Paciaroni Non riesce comunque A trovare il gol Del vantaggio Adesso Bologna Comunque torna in possesso E il Baza Torna con la propria compattezza River Cortez Va da Anzaloni A proposito di compattezza E quella che ora È riuscito a sdoganare River Cortez Con questo filtrante bellissimo In direzione Tommaso Anzaloni Che trova il suo Quindicesimo gol in campionato Nonché Diciassettesimo stagionale Bellissima girata al volo Del 14 Ma che palla ha messo Jose River Cortez Sì molto bravo Cortez Ma sicuramente La girata di Anzaloni È molto difficile È molto complicata Si gira in un batter d'occhio E batte Brucia sul tempo Di Bitonto Rivediamo tutto dal replay Prima La grandissima palla E poi La conclusione In girata Da parte di Anzaloni Bravissimo Numero 14 1-0 Bologna Adesso Beltrami Va a scucchiaiare Sempre in direzione River Cortez Ma capisce tutto Ferrante Che poi lotta Col numero 10 Va ancora Ferrante Di rabbia prepotenza Il migliore del Baza Che genera anche ora Il primo cartellino giallo Per il Bologna Più nello specifico Per Jose River Cortez Sì che protesta Però io penso di essere d'accordo Con la scelta Del direttore di gara Ferrante cade comunque In seguito a una spinta La parte di Cortez Perde l'equilibrio E perde un'ottima occasione Per cercare Godel Pari Giusto la munizione Giusto calcio munizione Per il Baza Che è sicuramente interessante Da lì Adesso è pronto a partire Invece anche Ferrante Ci mette le manone Paciaroni Poi cerca di ripartire Cortez Ancora Ferrante Mamma mia Che partita Sta facendo il 7 Rimessa in gioco In favore del Bologna In favore Del numero 21 Romano Che vorrebbe battere subito Non ci riesce Ma va ora La conclusione Il 21 Dopo il passaggio Di River Cortez Quindi mi tonto Senza troppe difficoltà Riesce comunque A neutralizzare Il tentativo del 21 Tanto indicazioni Di Veli Mirandreccia Fabio che entra Proprio al posto Di Gianluigi Ferrante E senza essersi riscaldato Quando mancano 2 minuti e 38 secondi Al termine di questo primo tempo Sì non è facile Entrare in questo momento Della partita Sia appunto Perché non si è scaldato Però anche Perché a livello mentale È una partita molto complicata Molto difficile Adesso vediamo subito Fabio che cerca di orientarsi All'interno del campo Adesso vediamo La trama di gioco del Bologna Con River Cortez Che affida la sfera A Giampaolo Uno sguardo Da parte del 20 Al centro Non trova Spazi Deve tornare Sempre dal 10 Da questi a Guendeline Dunque Romano Anticipo pulito Di Pozzi sul pallone Fallo laterale Per il Bologna Guendeline Da questi a Giampaolo Una soluzione Da parte del 20 La trova in River Cortez Dunque Sempre il 21 Per il 10 Dialogano molto bene I giocatori del Bologna Lo fanno nello stretto Lo fanno In pochi spazi Adesso si lascia andare River Cortez Che vuole Il tiro libero In maniera abbastanza plateale Adesso Scintille Tra Simone River Cortez Con il direttore di gara Che va a monire In questo istante Fabrizio Simone Altro giallo Importante Si abbassa Fabio Che viene ora incontro A ricevere il suo primo pallone Di questo incontro Poi si allunga un attimo La sfera Ma resiste molto bene Alla pressione di spada Prova ad avanzare Sempre l'11 di Baricella Con eleganza E con un'ottima conduzione Palla Va da Toschi Poi riesce Nella protezione del pallone Ai danni di Giampaolo Da questi a Giampaolo Uno sguardo davanti a sé Cerca di premiare Romano Bello l'anticipo di Pozzi Poi Fabio così e così Nel passaggio di ritorno a Pozzi Poi ritrova la sfera Sempre l'11 Che trova un gran numero Prima su Romano E poi su Giampaolo Però il passaggio Da parte dell'11 di Baricella Non è direzionato bene Da questi a Guendeline Torna sempre Dal 20 Che si allunga un po' il pallone Capisce tutto Fabio Che se lo va a riprendere Poi ottimo il lavoro dell'11 Che cerca di gestire bene Questo pallone Lo fa anche con la collaborazione Di Pozzi Da questi a Fadiga Risca un po' sull'attacco Di Giampaolo Poi ritrova il pallone Ancora Fadiga Pozzi 12 secondi alla fine Pozzi trova bene La verticale per Fabio Molto bene Anche l'anticipo qui di spada Pozzi viene incontro Vedremo Se prenderà la palla lui O Fabio La prende Fabio Bello il numero Qui è danni di Romano E adesso attenzione Perché 6 secondi di gioco E calcio di punizione Da posizione interessante Bellissimo il guizzo di Fabio Bellissimo anche il controllo Con la suola Sembra essere pronto Pozzi Che Lascia poi la battuta Ferrande col sinistro Palla alta Sopra la traversa Tra l'altro Soluzione ambigua Da parte del prof Che ha optato per il piede debole Lo scoreboard segna 0 secondi di gioco Però per il direttore di gara Si gioca ancora Arriva ora Il fischio della sirena Si conclude così La prima frazione di gioco Che dice Bologna 1 Balza 0 Una bella prima frazione di gioco Il Balza è entrato molto bene in campo Dopo ha sofferto un po' il Bologna Si Il Bologna sicuramente Ha fatto un buon primo tempo Però anche il Balza Ha tenuto testa Una squadra comunque molto forte Buon primo tempo Alla parte della squadra di Andrec Che comunque ha prodotto tanto Non è riuscito però A trovare il gol Del pari Eccoci al termine Dei primi 20 minuti di gioco effettivi Il punteggio dice Bologna 1 Balza 0 Una bellissima partita I ragazzi di Veli Mirandrec Sono entrati davvero molto bene in campo Hanno tenuto le distanze Non hanno mollato un solo centimetro Fabio nei due minuti e mezzo finali È stato assatanato quest'oggi Si Il Balza comunque sta giocando Un buon primo tempo L'1-0 comunque ci può stare Per quanto si è visto C'è da dire che La compattezza del Balza Sta mettendo in difficoltà il Bologna E dà la sensazione comunque Di poter anche riaprire la partita Ora molto interessante Vedere come rinizierà Questo secondo tempo Sicuramente i presupposti Per vedere Una seconda buona frazione di gioco Ci sono Presupposti che sicuramente ci sono Peccato per i gol incassato Un'ingenuità Non hanno mantenuto bene le distanze Su Anzaloni Che è stato l'autore della rete Subito verso la porta Lui l'ha fatto E trova un bellissimo gol Fabio comunque è entrato anche lui Bene in partita Ha dimostrato di essere Comunque sul pezzo Nonostante non abbia giocato molto Nel corso del primo tempo Adesso vediamo Se gli verrà riservato Dello spazio anche nel secondo Ora noi rientriamo E andiamo dentro con il secondo tempo Andiamo Eccoci nella ripresa Eccoci in questa seconda frazione di gioco Per seguire ancora una volta Assieme il derby Bologna-Balza Per seguire anche quello che è il duello Tra due allenatori Alberto Carobi e Bellimir Andreci Tra l'altro il primo allenato Il secondo Qui neanche una sfida Tra maestro ed allievo Sì e vedremo come proseguirà Questa partita Al primo tempo comunque Ci ha mostrato una partita interessante Tra due squadre di un livello Non troppo diverso Vediamo come si comporta La balza Se avrà una reazione Intanto Sono partiti ora I secondi 20 minuti di gioco effettivi Con il Bologna Che assume un pochettino La stessa fisionomia Vista ad inizio primo tempo Vedremo Quale sarà l'esito Della seconda frazione Ed ora River Cortez Che punta a Fabrizio Simone Poi cerca il 10 Di andare innescare Cavina Con la suola Ma non ci riesce Capisce tutto Il 5 Che fa esplodere un grandestro La parata di Paciaroni Che risposta del 22 Sul tiro del 5 Aiutato da Paolo Paciaroni Ma l'intervento rimane super E il tiro altrettanto Bravissimo Simone Prima nella fase di recupero E poi nella conclusione Bravissimo il portiere di Bologna Tra l'altro uno dei giocatori Che prende più legni Da parte del balza Anzi il giocatore Che prende più pali Radesco Che torna indietro Direttamente dal portiere Dunque Paciaroni Da questa è River Cortez Ma non può toccare Il pallone Il numero 22 Paciaroni Stando A quello che dice Il direttore di gara Dunque Polemiche Ancora una volta Dell'allenatore Parte Simone La rispinta Di Wendelin Che esorcizza Il pericolo Da questi a Simone Ancora il 2 Che va da Pozzi Ha davanti a sé Sempre il numero 4 Poi cerca di inventare qualcosa Poi ci ripensa E va Anch'esso da Fusca Da questi a Fadiga Si è girato Fadiga Un gol Pazzesco Del dottore Cosa ha fatto qui Ettore Fadiga Che da un Da nulla Da un fazzoletto Riesce a trovare La soluzione vincente Grandissimo gol Da parte di Fadiga È difficilissimo Trovare questo tipo Di conclusione Lo fa girandosi Vediamo Con risultanza di Ferrante Un gol importantissimo Per il balza Il gol del pareggio Che tutto sommato Ci può stare Per quanto si è visto Fino ad adesso Un fulmine a ciel sereno Ma che gol ha fatto Ettore Fadiga Un gol alla Olivier Giroud Da parte del 3 Che ora suona la carica Anche suoi Mentre il Bologna Deve rimettere le cose a posto In ogni caso Il balza è partito fortissimo Come abbiamo visto Anche a inizio Del primo tempo Vedremo se riuscirà A mantenere questo approccio Da calcio d'angolo Va a servire Rever Cortes Pozzi E poi Fadiga disinnesca In via definitiva E adesso calcio d'angolo Per il Bologna Affidato ai piedi Di Guendellini Che va da Cavina Di Bitonto strepitoso In spaccata Bravissimo Di Bitonto Che ha coperto Più specchio possibile Compia un miracolo Con il piede sinistro Mantiene il balza Ancora in parità Fallo laterale In favore del Bologna Con Rever Cortes Sempre in possesso Del pallone Da questi a Cavina Innesca sempre molto bene Il movimento del 10 Che fa esplodere il destro Di Bitonto E poi Pozzi Prova a partire Forse c'è un fallo su di lui Non secondo il direttore di gara Guendellini cerca di giocare Il pallone dentro Qui bravissimo Il ripiegamento difensivo Ancora una volta Chi se non il maestro Se non Ivan Pozzi Guendellini Da questi a Radesco Ancora Cortes Dunque Cavina Buono il pallone In direzione Anzaloni Buca l'intervento Di Bitonto Bravissimo Ancora una volta Anzaloni Che fa doppietta E fa 2 a 1 Un gol importantissimo Nel momento del bisogno Chi c'è Se non Tommaso Anzaloni Col suo 18esimo gol In stagione Ancora un gol bellissimo La partita di Anzaloni Anche questo Difficilissimo Perché lo fa sempre in girata Sempre con una coordinazione Eccellente Riesce a fare a perno Sul stesso Con il piede sinistro E a concludere con il destro E battere di Bitonto Per quello che vale Il 2 a 1 Per il Bologna Una partita sicuramente difficilissima Il balza Però la sta approcciando Molto bene Adesso vediamo Il Caimano Che va a cercare Ferrante Che sbuccia il pallone Con il piede sinistro La palla si perde Sul fondo Adesso River Cortez Che va ad Anzaloni La sola di Anzaloni Per Cavina Un sinistro Magico Ad incrociare Che bacia il palo E finisce in porta E 3 a 1 Bologna E 3 a 1 Marco Cavina Il doppio vantaggio Per il Bologna Gol bellissimo La parte di Cavina Posizione Defilatissima Riesce comunque A battere di Bitonto Per la terza volta Adesso il balza Ha accusato un po' Il contracolpo psicologico Della 2 a 1 Quattordicesimo gol In campionato Quindicesimo stagionale Viene chiamato il tie break Da parte della formazione Di Velimir Andrej Perché Non ci sta capendo Più nulla Il balza Pardon Time out Viene dunque chiamato Ora il time out Vediamo con Alberto Carobi Che rivendica L'atteggiamento Che avrebbe voluto Fin dall'inizio Ed ora Andrej Deve rimettere le cose a posto Ora River Cortez Va dentro Capisce tutto Ferrante Che trova l'anticipo Dunque spada Calcia Ma in maniera Troppo timida Può ripartire Ora Toschi Pozzi Poi Ferrante Davanti a Sia River Cortez Si sposta la palla Sul sinistro Ferrante La palla rimane lì Il caimano E arriva il gol Di Ayman Maizi Quarto gol stagionale Che poi va anche A zittire Un dirigente in tribuna Con cui ha avuto Un problema Qualche estate fa E adesso Si toglie un peso Ayman Maizi E porta il balzo A meno uno Bravo Maizi Perché sfrutta Lo spazio che ha In mezzo all'aria Si gira in un fazzoletto Realizza il gol del 3 a 2 Non è mai facile Comunque segnare E in questo caso Maizi Riesce ad accorciare Le distanze Con il gol del 3 a 2 Intanto è entrato E' entrato anche Fabio Proprio al posto Del caimano Ed è uscito Toschi Entrato invece Ettore Fadiga Adesso vediamo Come si comporterà Un Fabio che è entrato Molto bene nel primo tempo Vedremo quale sarà L'epilogo di questa ripresa Ma seguiamo Beltrami Che va dentro Danzaloni Vicinissimo Alla tripletta Qui Il passaggio All'indietro Lo trova Affidando la sfera A Paciaroni Poi Beltrami Buca all'intervento Rimesso in gioco Fallo laterale per il balzo Affidato ai piedi di Fadiga Che va a nescare Fabio Buono lo so perentato Dell'undici Però la battaglia Tra numeri undici La vince in questo caso Il giocatore Maglia Rosso Blu Che prova a tramutare L'azione della difensiva Offensiva Il sinistro di spada La palla rimane lì Beltrami Pozzi Monumentale Ci mette una pezza Seguiamo ora Pozzi Che Va da Simone Da questi a Fabio Che difende molto bene il pallone Buono il lavoro qui di Fabio Che fa fuori anche Radesco Gioca la palla dentro Non c'è nessuno Qui bella la giocata di Fabio Che è riuscito Benissimo in protezione Ma vediamo dalla parte opposta Del tentativo di testa Da parte di Beltrami Se non ho visto male Però la palla finisce Ben oltre Sopra la traversa Sì Buona giocata prima di Fabio Peccato che poi in mezzo Non ci fosse nessuno Questo L'ha portato un po' A entrare in un vicolo cieco E adesso Comunque Il Bazz ha bisogno di una reazione Che non sta avvenendo Con Cavina che va Ora da spada Il sinistro Il palo Fabio è largo Viene a prendersi questo pallone Sfide in uno contro uno Cavina Le finte del Undici Che poi torna indietro Con la collaborazione di Fadiga Dunque Pozzi Si allarga ora Fabio Che riceve un buon pallone In mezzo al traffico Fabio Pulisce Per Pozzi Che cerca La serpentina Poi il sinistro di Pozzi Capisce tutto Ora Cavina che prova A ripartire Chiama a spada Alla sua destra Poi dopo Che padronanza Di Cavina Che va a scucchiare Molto bene per spada Che va a innescare Beltrami E arriva anche la rete Del 4 a 2 Non è arrivata prima È arrivata ora È arrivata con Matteo Beltrami Il classe 99 Che non ha perdonato Il Balza Bella trama offensiva Da parte del Bologna Che esce dalla situazione Piuttosto complicata Il Balza Ha cercato il pressing alto Ma poi Ha trovato invece Di spazi giusti Il Bologna E la rete Del 4 a 2 E adesso Diventa veramente Una montagna È una montagna Da risalire per il Bals Decimo gol in campionato Decimo stagionale Per Matteo Beltrami Che è riuscito A capitalizzare Al meglio L'invenzione Di Marco Cavina La cosa interessante È come ha Idealizzato La trama di gioco Il numero 17 Del Bologna Adesso seguiamo Fabio Che cerca una soluzione La trova sempre in Gigi Ferrante Intanto vediamo Fabio Che comunque è sempre Ingabbiato dalla pressione Di più giocatori Di Bologna Ora invece cosa costruisce Con Beltrami Che cerca la verticale La trova Favorendo L'inserimento di Spada Che prova ad avanzare Ora brutto Il falo di Fadiga I danni di Alessandro Spade Si va a prendere anche Il cartellino giallo Ettore Fadiga Un po' di nervosismo Di troppo Da parte anche del dottore In questo caso Vediamo Pronto a andare Marco Cavina Che poi lascia La battuta A Osere Ver Cortez Tocca anche Ferrante Col tacco Adesso calcio d'angolo Affidato ai piedi di Mordacci Che va dal Caimano Dentro ancora per Mordacci Accorcia le distanze lui Samuel Mordacci Che raggiunge Il suo quinto gol stagionale Un gol che mancava Da tanto tempo L'ha ritrovato Samuel Mordacci In un momento delicato Della partita Cerca il doppio passo Pozzi Poi cerca l'invenzione Per Maizzi Buona la lettura difensiva Di Giampaolo Buonissimo Anche l'intervento Qui di Mordacci Che si ruba Un pallone importante Si porta a casa Un fallo Che caratterizza La quinta infrazione di gioco Per il Bologna Dunque Al prossimo fallo Tiro libero Seppur mancano 8 secondi di gioco Alla fine dell'incontro Quindi C'è da vedere In ogni caso Ottimo Gli Ultras Arrivati quest'oggi Al palazzetto dello sport di Castenaso Sbaglia tutto Pozzi Ne può approfittare Allora Guendeline Di Bitonto Ci mette una pezza E gioca il pallone In direzione Toschi La palla non è uscita Toschi con la punta Poi deviazione Prima di Cavina E poi di Giampaolo La palla si perde Nuovamente in fallo laterale Zero secondi Si aspetta solamente Il fischio finale A questo punto Il Bologna Porta a casa Tre punti Importanti Che sono stati Più sudati Di quanto magari Previsto alla vigilia Adesso Toschi gioca per Pozzi E finisce qui Il punteggio Al termine Dei secondi 20 minuti di gioco Dice Bologna 5 Balza 3 Una bellissima partita Il Bologna però ha avuto la meglio E ora i ragazzi del Bologna Si godono il momento Si godono la vittoria meritata E noi Ci spostiamo nelle interviste Eccoci nel post partita Di Bologna balza Il punteggio finale Dice Bologna 5 Balza 3 Una bellissima partita I ragazzi di Velmir Andrei Ci sono scesi molto bene in campo Hanno tenuto benissimo le distanze Soprattutto nella prima frazione di gioco Poi nel secondo tempo Sono calati un po' Ed è salito in cattedra Un grandissimo Bologna Si comunque abbiamo visto Un ottimo Bologna Penso che all'inizio Forse abbiano sottovalutato Anche un po' l'avversario Il Balza comunque Ha giocato una buona partita E peccato perché secondo me Alcuni gol sono stati presi In maniera un po' superficiale Nel complesso comunque Il Balza porta a casa Una buona prestazione Però purtroppo Non porta a casa punti Fabio molto bene Nel primo tempo Il secondo è un po' Andato in bambola In alcuni frangenti Un po' come tutta la squadra Te come l'hai vista? Dopo poi gliela andremo A chiedere anche a lui Si lo penso uguale Penso che anche a livello tattico Non abbia fatto la miglior prestazione Non è stato il miglior Fabio Che abbiamo visto in questa stagione Tutto sommato comunque C'è tanto da imparare Con un avversario così forte Posso dire che secondo me Gli avversari hanno preso Anche le misure a Fabio Perché dopo i due minuti E trenta secondi Del primo tempo Sentivo il mister Che dava indicazioni Proprio riguardo Fabio Detto questo Bisogna ripartire Da sabato prossimo Dove arriverà la posa Bologna Uno scontro diretto Uno scontro per riuscire A risollevarsi in classifica E trovare la vittoria Che ormai manca da tre giornate Allora noi adesso Andiamo a sentire Tommaso Anzaloni Autore di una prestazione super Autore della doppietta Che è inciso sul 5-3 Per il Bologna Tra l'altro è la prima volta Che vi portiamo i nostri microfoni Un giocatore della squadra avversaria Un giocatore professionista Che ha fatto anche la nazionale Andiamo a sentire lui E poi andiamo a sentire Fabio Siamo qui con Tommaso Anzaloni Pivot del Bologna Insomma parto con una domanda generica Innanzitutto complimenti per la doppietta Come vi siete comportati oggi Secondo il tuo punto di vista Se magari ti aspettavi un pochino Di più della tua squadra È il nostro dovere Non ci siamo fatti troppo nervosire Poi magari a livello tecnico Sapevamo di essere superiori Ma comunque è stata una partita combattuta Alla squadra Non posso riproverare niente Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali Dove pensi che possa arrivare il Bologna Qual è il vostro obiettivo per il campionato? Allora non ci nascondiamo Come da inizio stagione Il nostro obiettivo è quello di salire La promozione Magari anche vincere il campionato Adesso bisogna giocare tutte le partite Come se fossero delle finali Perché il girone di ritorno È difficilissimo Si è visto Oggi per esempio Il risultato dell'andata È stato con un parziale altissimo Oggi ce la siamo giocata fino alla fine E questo è il bello di questo sport Può succedere di tutto Quindi noi dobbiamo stare attenti E continuare a fare il nostro dovere Inoltre chiuderei con una domanda Relativa a Fabio So che comunque te ci hai giocato insieme Anche contro Insomma se hai un discorso un po' generale Su di lui Cosa ne pensi E comunque in generale Se ti piace Il fatto che lui sia passato al futsal Allora intanto io guardo tutti i video Quindi mi sono fatto un'idea Fabio ci ho giocato insieme Ma anche contro a calcio a 11 Quando eravamo più piccolini E devo dire Che anche vedendolo oggi dal vivo Lui sta facendo dei passi da gigante Non è facile Perché è uno sport Completamente diverso questo Io quando sono passato dall'11 al 5 Ci ho messo un anno buono Per trovare una mia dimensione E oggi ho visto Fabio Fa grandi cose Poi è normale È appena all'inizio Però sono contento Perché grazie a lui Grazie a voi Questo sport Ha una grande visibilità in più Che fa bene a noi Fa bene al movimento E poi mi fa piacere Che lui abbia deciso di giocare questo sport Che secondo me è molto più bello del calcio E te da quanto tempo giochi a 5? Ormai sono 5 anni Prima facevo doppia attività Ricordiamo classe 2002 Quindi comunque giocherà tanto tempo Allora noi ringraziamo Tommaso Anzoluni Per questa intervista E complimenti per aver trovato Il 15esimo e 16esimo gol stagionale E noi possiamo passare Adesso a Fabio Eccoci quindi con Fabio Insomma Cosa ne pensi della partita di oggi Del Bazz Avversario molto difficile Molto ostico E alla fine il risultato lo dimostra Sì l'avversario era sicuramente Un primo tempo molto positivo per te Un approccio monster quasi Sei entrato e sei riuscito a fare grandissime cose Il secondo tempo tanto in difficoltà Ma qual è la difficoltà principale Che hai riscontrato a livello tattico? Ma non lo so bene neanch'io Ti ho detto dovrei riguardare la partita Secondo me non avevo bene Le idee chiare su cosa fare Ok ok Un'altra cosa che volevo chiederti Visto che avete affrontato Sia l'Olimpia Regium che il Bologna E il Bologna è stata l'unica formazione Ad essere riuscita a fermare l'Olimpia Regium Sia l'andata che il ritorno Secondo te Qual è la squadra più forte tra le due? Avendole affrontate entrambe Almeno a livello personale Penso che abbiamo avuto più difficoltà Con l'Olimpia Regium Oggi un super balza Direi che è riuscito ad arginare ampiamente il Bologna Se aveste fatto una prestazione del genere Secondo te con l'Olimpia Regium Sarebbe andata diversamente? Beh Fabio sicuramente A differenza dell'Olimpia Regium Una prestazione del genere dà anche morale Perché è fatta comunque con una squadra Delle zone alte della classifica E se aveste fatto una prestazione di questo calibro Contro il Real Casalgrandese Il punteggio probabilmente sarebbe stato un altro Sì inoltre c'è anche da considerare Che avevamo due assenze importanti Conti e Calaia Quindi sì secondo me Abbiamo fatto una grande prestazione oggi E se siamo fatti la stessa prestazione con la Casalgrandese Sicuramente non sarebbe andata come andata Noi ragazzi vi ringraziamo per essere arrivati a questo punto del video Vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale Mettere in piace al video Attivate la campanellina E come sempre commentate in tantissimi Tra l'altro ragazzi Questo video uscirà il giorno del compleanno di Fabio Oggi è il 9 marzo Quindi mi raccomando Fatevi sentire anche con il vostro supporto E con i vostri auguri per Fabio Mi raccomando anche oggi che è un giorno speciale E niente Noi ragazzi ci vediamo settimana prossima Giovedì prossimo Con un nuovo appuntamento nel Futsal E vedremo come sarà che avrà il bazza Con la borsa a Bologna A giovedì prossimo Ciao ragazzi